qui veramente complicato l'assist di brown molto bravo giacori williams poi lo scarico il fischio direi è contro tyler kalinowski che difende forte dopo il time out conti vicino al recupero poi willis prova a partire e trova giacori williams sono legati da due intanto morgan per giacori williams dopo che arriva da parte di williams servizio di brown con l'urlo